5 minuti di pace Gli elefantini stanno facendo colazione. Non è uno spettacolo molto piacevole. Mamma Elefante prende un vassoio e ci dispone una teiera, una brocca di latte, la sua tazza preferita, un piatto di toscola marmellata e una tortina del giorno prima. Poi si mette in tasca il giornale e procede di soppiatto verso la porta. Dove vai con quel vassoio mamma? chiede Eleonora. Vado in bagno risponde la mamma. Perché? domandano gli altri due elefantini. Perché voglio 5 minuti di pace e lontana da voi. Ecco perché. Possiamo venire anche noi? le chiede Eliseo mentre gli elefantini la seguono per le scale. No, dice la mamma, non potete. Ma cosa faremo allora? domanda Eleonora. Giocherete al piano di sotto per conto vostro e date un'occhiata al piccolo Edo. Io non sono piccolo! esclama Edo. La mamma si prepara un bagno caldo. Versa nell'acqua un bel po' di bagno schiuma, si mette la cuffietta ed entra nella vasca. Poi sorseggia una tazza di tè e si ti stende chiudendo gli occhi. Che paradiso! Posso suonarti qualcosa? chiede Eliseo. La mamma apre un occhio. Devi proprio. Mi sono esercitato, me lo hai detto tu. Ti prego, solo per un minuto. Va bene, sospira la mamma. Ed Eliseo suona stella stellina per tre volte e mezza. Poi arriva Eleonora. Posso leggerti una pagina del mio libro, mamma? No, Eleonora, su. Adesso andate tutti al piano di sotto. Ma Eliseo l'hai lasciato suonare, l'ho sentito. Vuoi più bene a lui che a me, non è giusto. Non essere sciocca, Eleonora, dice la mamma. Comunque d'accordo, leggi pure, ma solo una pagina. E così Eleonora legge quattro pagine e mezza di cappuccetto rozzo. Ed ecco arriva Edo, carico di giocattoli. Sono per te, mamma, esclama, e li getta nella vasca da bagno. Grazie, piccolo, dice la mamma rassegnata. Posso guardare la pagina dei fumetti? Posso mangiare la torta? Posso entrare nella vasca con te? Chiedono a ruota i tre elefantini. La mamma sospira. Alla fine entrano tutti nella vasca. Edo è talmente euforico che si lancia con il pigiama ancora addosso. La mamma esce, si asciuga, si mette la vestaglia e va verso la porta. Dove vai, mamma? Chiede Eleonora. Vado in cucina. Perché? Domanda Eliseo. Perché voglio cinque minuti di pace lontana da voi. Ecco perché. E scende al piano di sotto. Dove finalmente si gode tre minuti e quarantacinque secondi di pace. Prima che gli elefantini di nuovo la raggiungano. Fine.